Siamo molto soddisfatti di tutti i vostri lavori, sono uscite anche delle idee molto molto interessanti e potrebbero essere quindi anche implementate in futuro e questo ci fa molto molto piacere insomma che da un lato l'argomento vi sia piaciuto. È stato un corso molto interessante e soprattutto molto stimolante. È uscito dai soliti schemi secondo me delle lezioni classiche frontali. Abbiamo avuto la possibilità di mettere in pratica ciò che abbiamo studiato. Poi avere anche delle idee che potrebbero essere utilizzate dall'ennesimo Film Festival è sicuramente una soddisfazione per uno studente. È un caso concreto su cui lavorare. Mi sono state fatte comunque delle analisi approfondite. Mi è piaciuto comunque addentrarmi e cercare di essere un pochino creativa ai fini del progetto. Un'esperienza altamente formativa in generale per quanto riguarda il mondo cinematografico è un mondo che mi ha sempre affascinato. Questo progetto mi ha dato la possibilità di capire molte dinamiche che non conoscevo. Secondo me il punto di forza del Festival è il fatto che alle spalle abbia dei giovani. Secondo me uno dei punti di forza è valorizzare la città di Trano Modenese. Può essere un buon potenziale per poter coinvolgere l'intera comunità. Dà l'opportunità di far vedere in Italia opere che non sono reperibili. Un'esperienza che comunque di sicuro è di pietra dei. Anche a me piacerebbe comunque molto lavorare in contesti del genere così creativi. Mi piace molto il contatto col pubblico, mi piace esprimermi, quindi sì, penso sia un ambito dove potrei lavorare. Mi sono divertita. Mi piacerebbe molto lavorare anche all'organizzazione di eventi del genere.